Per avere successo nella propria attività, è essenziale restare concentrati su ciò che è importante. Indipendentemente dagli obiettivi aziendali, esistono molte distrazioni. Ora è possibile sfruttare una soluzione di sorveglianza IP di alta qualità che aiuta a migliorare la protezione e la sicurezza senza sforare il budget. Tuttavia, un buon sistema di sorveglianza non si ferma alla sola registrazione degli eventi. Migliora la capacità di impedirli e controllarli permettendo di concentrarsi su ciò che è veramente importante. Parlate con la società che ha inventato la tecnologia video di rete nel 1996 e che ancora oggi ne guida lo sviluppo. Fino ad oggi, i nostri partner di tutto il mondo hanno installato quasi 3 milioni di canali in ogni settore immaginabile, pubblico e commerciale. Combinando la gamma di telecamere di rete AXIS della serie M convenienti e compatte con il nostro software AXIS Camera Station O con una soluzione di gestione video prodotta da uno dei nostri partner, è possibile creare un sistema di videosorveglianza davvero efficace. Con la qualità delle immagini HDTV che garantisce un'identificazione inequivocabile. Le telecamere e il software di rete AXIS serie M sono facili da installare e gestire e permettono di creare un sistema adattabile alle esigenze future. Includendo, ad esempio, telecamere per la sorveglianza di ambienti esterni, telecamere PTZ, rilevamento termico e molte altre funzioni. Indipendentemente dall'applicazione di videosorveglianza, sarà possibile attuare una facile scelta senza problemi che permetterà di concentrarsi sui risultati. Con AXIS si è sempre un passo avanti. Con AXIS si è sempre un passo avanti.